È un po' un argomento che ha perso un po' importanza, no? Cioè, questo inverno non se ne è parlato tanto. È una registrazione, no? Quindi volendo non... No, beh... Oppure c'è una necessità di una... È buona l'aprile. Di essere... Clima. Catastrofisti e negazionisti. Clima. Aspettando Copenaghen. Bastard Sons of Dioniso, Obama e la scienza. Chi è Giovanni Straffellini, autore di alcuni degli articoli di cui ho appena citato i titoli? Beh, io sono docente della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Trento e da qualche anno collaboro come editorialista al Corriere del Trentino su tematiche che non riguardano il mio lavoro, anche se sono tematiche in genere tecniche. Quindi non riguardano direttamente, ma in qualche modo sono affini. Ecco, si possono affrontare bene con conoscenze tecniche, tecnico-scientifiche. E quindi questa attività dell'editorialista Corriere del Trentino e anche del blog che tu hai introdotto adesso deriva da questi miei interessi un po' generali, non specifici sul lavoro, ma su argomenti che ritengo molto importanti. Nel 2005 per la te mia editrice hai pubblicato Che aria tira in città e ci hai sorpreso dicendo che molto spesso l'aria che oggi respiriamo è migliore che in passato. Tu sei un negazionista del problema climatico? No, beh, qui il discorso che tu fai riferimento riguarda l'inquinamento, soprattutto l'inquinamento da polveri sottili. Il discorso scientifico del fatto che una volta l'inquinamento da polveri sottili, l'inquinamento dell'aria che si respira, era maggiore che adesso, e questo è vero, ecco, questo è vero e io l'ho cercato di ribadirlo, non per minimizzare il problematica odierna, che effettivamente va affrontata, bisogna sempre migliorare, no? Però per metterlo anche nella giusta prospettiva. I ascoltatori trentini ricorderanno, ad esempio, il caso della Sloid, di industrie che anni fa c'erano nel nostro territorio e che inquinavano, ci sono dei rapporti, dei libri che si possono leggere, che mettono in evidenza come a quei tempi bisognava chiudere le finestre periodicamente nei vari giorni della settimana, quando arrivavano ondate di aria inquinata. Oggi la situazione è, possiamo dirlo, migliore. Questo è un esempio di approccio scientifico a temi quali appunto l'inquinamento, piuttosto che il clima di nuovo, l'energia, che tu ti proponi di adottare nel blog come negli editoriali? Certo, l'approccio scientifico che vuol dire proprio cercare il più possibile di fare riferimento alle indagini, ai lavori sperimentali più significativi, più importanti. Questo non vuol dire che l'approccio scientifico dà risposte sempre esatte, è evidente, però possiamo dire che sono le risposte, le informazioni migliori che possiamo ottenere. E quando si tratta di fare incontrare scienze e fede, come anche fai nei temi trattati nel tuo blog, da dove viene questa esperienza ed è questo un connubio possibile? Questa esperienza è un po' particolare, devo dire, deriva da un'iniziativa a cui sono stato coinvolto, che si chiama la Cateda del Confronto, che esiste già da tempo qui a Trento, raccoglie un gruppo di docenti universitari, ma non solo, dell'Università di Trento, sotto il coordinamento di Don De Carli, quindi della Diocese di Trento. E' un gruppo che ha il compito di, così si ritrova periodicamente, affrontando temi generali, che toccano anche il rapporto scienza-fede. Il tema della fede chiaramente c'era da sempre nella mia vita, essendo io comunque nato in una famiglia che aveva dei certi valori, me li sono portati dietro con degli alti e dei bassi, e fanno parte della mia formazione. Ecco, con la preparazione scientifica è nata anche la necessità di cercare di conciliare le due cose, spesso conflittuali. Questi incontri con la Cateda del Confronto e anche l'incontro con mia moglie, devo dire, con chi poi è diventata mia moglie, mi ha spinto ad approfondire con maggiore energia queste tematiche, e di questo sono contento. È più divertente per concludere insegnare impianti metallurgici, scrivere un post per il tuo blog o un editoriale per il Corriere del Trentino? Guarda, bella domanda. Devo dire tutte e tre le cose, quasi allo stesso piano. Insegnare impianti metallurgici mi piace tantissimo. Mi piace quindi preparare dispense, approfondire esercizi, andare a visitare le acciaerie con gli studenti, vedere le innovazioni tecnologiche. Ormai è una parte importante della mia vita e quindi la faccio con entusiasmo, per fortuna. Ma anche le altre due attività, che sono un po' più collaterali, non dico a tempo perso, ma quasi, insomma, sono più da fine settimana, sono però anche molto importanti. E tramite il blog, dove lì pubblico gli articoli, che sono già ovviamente già usciti in anteprima sul Corriere del Trentino, è bello perché siano dei riscontri con le persone, con gli amici inizialmente, perché inizialmente ho coinvolto soprattutto gli amici, ma adesso vedo anche con altre persone della rete, non solo, che intervengono in modo molto preciso, interessante, e mi impegnano ad approfondire anche me le tematiche che ho trattato. Quindi trattate, magari, al meglio possibile, con certe angolazioni, ma doverle rivedere, riaffrontare, cogliendo degli spunti, dei riscontri da parte dei lettori. Un'esperienza molto, molto bella.